gentilezza la gentilezza è dote singolare si manifesta in gesti inattesi o nel luccichio di sguardi cortesi sicché il mondo meno grigio appare la gentilezza è pura eleganza prescinde certamente dalla ricchezza non si compra ma siano tutti all'altezza di ornarci di atto e buona crianza perché la novità è un fatto di cuore mischina è la povertà interiore